Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio mostrare che cosa mi è arrivato da parte dell'azienda eccellenza toscana. Sono tutti prodotti tipici della Toscana, precisamente da Firenze, di ottima qualità. Adesso vi faccio vedere che cosa mi è arrivato. Partiamo da questo di qua che sono dei cantuccini alla mandorla, poi qui abbiamo altri cantuccini però all'arancia al cioccolato, un abbinamento perfetto. Qui abbiamo una cioccolata al pistacchio, poi questi qua sono delle ciambelline al vino davvero particolari e qui invece abbiamo delle ciambelline all'anice. Allora qui abbiamo la crema fior di nocciola biologica di 250 grammi e qui invece abbiamo il miele biologico millefiori, sempre di 250 grammi. Poi qui troviamo i fusilli, sempre eccellenza toscana e poi infine qui abbiamo questo vino spumante brut rosè, davvero buonissimo e questo è tutto quello che ho trovato all'interno del pacco. Sono prodotti tipici appunto della Toscana. Vi lascio il link qui sotto per poter acquistare direttamente sul loro sito perché vendono di tutto e di più, ovvero farine, dolci, paste, vini, spumanti, di tutto e di più. Quindi vi consiglio di dare un'occhiata anche perché ne vale veramente la pena e quindi buona spesa ragazzi. Grazie ancora, eccellenza toscana.